Genoa Western Oresteia Genoa Western Oresteia Genoa Western Oresteia sostanzialmente di immigrati marocchini e poi avevo dei rom però non avevo i siciliani ne avevo giusto due e mi ricordo che facevo metta-lezione in italiano e metta-lezione in francese per quelli che non capivano l'italiano e quando ho scoperto che però poi gli arabi di seconda generazione litigavano in lingua madre con i nuovi arrivati mi ero arrabbiato e ho detto ma perché allora non vi parlate per quanto riguarda le materie scolastiche e in realtà lì era perché c'era già una divisione netta della società, cioè gli arabi arrivati dal Marocco si sentivano ancora marocchini, gli altri si sentivano italiani quindi avevo delle ragazze con il velo e delle ragazze con la minigonna che non andavano d'accordo pur proveniendo dalla stessa origine, quindi già era stato difficile quell'anno poi io avevo un preside all'epoca in gamba che mi aveva detto ok i ragazzi non parlano italiano fargli lavorare sul teatro perché ho visto il tuo curriculum e allora avevamo presentato uno spettacolo sulla Shoah dove gli arabi interpretavano gli ebrei, quindi era stata una cosa molto forte però era piaciuto lo spettacolo, eravamo andati un po' in giro qua si respirava un disagio forte anche perché era una scuola che ormai si capiva che l'avrebbero chiusa si capiva perché eravamo tutti arrembati nella torre sud, la torre nord che sarebbe questa la torre nord era già chiusa da tempo però i ragazzi ci entravano si erano rotti dei vetri, entravano i piccioni, le ultime volte facevamo lezione con il freddo i piccioni sulla cattedra la preside aveva provato all'epoca a dire cerchiamo di sistemare questa scuola, qualche lavoro era stato fatto ma poi alla fine la preside stessa aveva detto andiamo su, c'è un'altra scuola più calda, più facile da gestire gli iscritti sono pochi, fu secondo me un errore perché ci perdemmo gli iscritti di Via Cravasco ci perdemmo gli iscritti di Palmaro che quindi incrementò gli iscritti della Sarotti ma per noi fu penalizzante sarebbe stato intelligente fare un comprensivo del CEP quindi Paganini, Quasimodo, Aldomoro forse così saremmo riusciti a sopravvivere dicevo il romanzo si svolge qui, racconta la storia di alcune famiglie che dalla Sicilia salgono qui nel continente alcune lavorano e altre invece delinquono i figli di queste famiglie crescono insieme e sbagliano insieme qualcuno si salva, qualcuno no quelli che non si salvano in sostanza saranno quelli che pagheranno i ragazzini di adesso per spacciare droga quindi la storia è questa c'è anche la scuola, ci sono anche l'immagine della scuola e della chiesa che cercano di porre freno a questa situazione ma in realtà non riescono perché l'insegnante che ha questi ragazzi è un insegnante che comunque ha fatto a sua volta i suoi errori quindi un insegnante molto discussa e poco credibile per la polizia per esempio e il protagonista religioso è un prete che però in passato ha partecipato a uno stupro di gruppo quindi in realtà oltre che dover salvare questi ragazzini deve cercare di combattere con il suo senso di colpa è un romanzo che ha dato molto fastidio, ad alcuni non è piaciuto, lo dico sinceramente, ad altri invece è piaciuto però il rischio c'era